Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016 Allora, ci eravamo lasciati qua, mancano 3 gare al termine della stagione La posizione attuale nostra è questa Abbiamo la valenza di 50 punti di differenza dal secondo Se a regola dovessimo vincere questo Gran Premio potremmo essere già campioni del mondo Perché se non erro, non da quest'anno qua del gioco, ma da quest'anno Stagione di Formula 1 2016 Non ci sono più a regola doppi punti da Abu Dhabi Quindi spero di non dire una cazzata Se dovessimo vincere questo, comunque Hamilton A parte Hamilton non ci interessa A regola comunque dovremmo vincere il mondiale E niente, siamo già alla sessione qualifiche Torno indietro perché devo sentire la segredita telefonica E fatto ciò scendiamo subito in pista Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara Decimo, ok No, ma guarda che acqua viene Porca miseria Allora no, l'assetto io direi di lasciare il pre-definito del 3 Ehm, manda avanti i tempi Vediamo un po' che tempi fanno gli altri Ehm, sono arrivato più o meno a Poco meno di 7 minuti rimanenti Perché comunque come vedete già anche Bottas non è uscito Non erano uscite tutte Ehm, niente Guardando un po' l'obiettivo qua al decimo posto Dovremmo fare massimo 1,36 stecchito Così perlomeno siamo tranquilli Se invece vogliamo arrivare, non lo so A fare i primi 5 come sempre Dovremmo fare all'incirca 1,35 e mezzo E o meno di 1,36 Va bene, ok Vediamo un po' cosa riusciamo a fare Perché come sapete quando piove Sinceramente non è che io sia così bravo Nemmeno quando c'è il sole Però figuriamoci quando piove, ecco Allora, iniziamo il giro C'è una cosa che non capisco Ehm, perché Tutte le altre hanno fatto il loro giro Con le gomme da bagnato Invece sull'intermedia Che Ehm Stia piovendo di meno La pista è sempre più asciutta Sinceramente a me questo non sembra Mi auguro che ci sia Una motivazione valida A questa cosa via Ecco Vediamo un po' La regola Primi 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 Bene 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 così Nonostante vi dà la verità Poi c'è anche qualche botta Ehm Bene Noi siamo primi Ce l'abbiamo fatta ugualmente Vediamo un po' Se lo rimaneremo Rimarremo Fino alla fine In posizione Manca un po' Siondi No infatti Siamo già Siondi Che c'è Magnussen Però guardiamo se Boh è Ottavi alla fine Comunque sì Alla fine Vedete Tante sono riuscite con le intermedie Porca miseria Siamo Ottavi Noi stavano E che ci portiamo a casa Almeno l'obiettivo Regola 2 obiettivi No? Perché Verlevante è arrivato Boh Vabbè Comunque A regola Solamente quello Del posto Della posizione Che deve essere Massimo Cioè almeno Decimo E anzi Al massimo decimo E poi per l'altro Di Berlain Non di Hamilton Perché Hamilton è arrivato Prima tanto a noi Clamorosamente Rivalità vinta Ale Allora Eccoci qua Sessione gara Ascoltiamo la serie telefonica Ciao Volevo farti sapere Cosa si aspetta Il team da questa gara Buona fortuna Buona fortuna Ok Via Abbassiamo la frizione E cerchiamo di partire a modo Dai A regola Dovrebbe essere La La gara Veramente Diciamo Che può farci vincere il mondiale A regola Ripeto Spero di non dire una cazzata Bella roba Subito Subito Di prepotenza Alla prima curva Siamo primi Poi Allora Finisce il primo giro E la situazione E la situazione è questa Da ottavi Siamo primi Vabbè ma questa L'avete già visto prima E nonostante ciò Abbiamo creato un po' Di distacco Da quelle dietro Quelle dietro Che momentaneamente Sono Verstappen E il magico magnus Questo è il giro in cui Dovremmo poi Rentrare i box Il settimo E come sempre Ci arriviamo Con uno stato Di Usura come Soprattutto in quanto riguarda Quelle anteriori Abbastanza Diciamo tirato Ecco Non è tiratissimo Come è successo D'altre volte Anche se per ora Siamo Quasi a metà giro Quindi La percentuale salirà Quando arriveremo i box Però come sempre Si arriva I box Con le gomme Allo stremo Alcune gomme Allo stremo Vieni Entriamo i box Comunque ragazzi Spiegatemi Cosa vuol dire Che se ondo C'è Verstappen E il terzo Ulkenberg Vi dirò Tra l'altro Come vedete C'è anche poi Riferenza fra due Prima c'era anche Ulkenberg Addirittura Lui era riuscito A arrivare se ondo Anzi A stare se ondo Per tot tempo Cosa vuol dire Non lo so Comunque attenzione Non rientrano tutto i box E quindi ora ci sono Delle macchine davanti Quando usciremo Questa non ci voleva Non è una vostra simpatia Bisogna stare attenti Dunque usciamo E siamo Settimi Ottavi Sì Noni Ultimi De Siamo la grassa Tanto regola Benzina ce n'è Male male Come sempre Eventualmente Poi si riscala Vieni Vediamo un po' Massa preso Vediamo se mi riesce a prendere Anche l'oreo Vai Rosberg ho preso Vediamo se mi riesce a prendere Anche Bat Ah Atto Mamma mia signore Dio È andata bene Vai Forse batto L'ho preso Vai No È qui Alle calcagne Ci sta Alle calcagne Bene Così impara Dammi noia Si è rigirato E io Felipe Massa è stato squalificato Basta Addirittura Comunque ho fatto caso Sto tanto adesso Che le altre A differenza mia Che Sono partito con Di dove vado Con comunque Le Le gomme rossie Le altre Credo tutte Non lo so Poi forse Verlain Che magari Sono con il stesso team Sono partite invece Con le mobili Con le gialle Subito Quindi magari È per questo Che non rientra Ne box In questi giri Magari ci rientranno dopo Vediamo se Mi riesce a prendere Hamilton e Verstapp Hamilton Si Verstapp Ora 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 Vai Presso Allora Io lo so Che mancano Diciamo Cioè Due giri Via Siamo al Sedicesimo Giro E Vabbè A parte Che mi hanno detto Che C'ho benzina Per cinque giri Vuol dire Che comunque C'è un po' Se continuate Ne quella Ma Fanno Lo Sanno Fuori Io vorrei Rientrare Boxing Ho 20 Watt Tre secondi di Stacco Da Hamilton Che sia Hondo E io Vorrei Rischia Perché Perché Non so Se ce la Posso Fà Io Intanto Faccio Il Cosa Faccio La Richiesta Insomma Di Allora Di Poter Rientrare La box Vorrei Adesso Andarci Perché Comunque 70% Mancano Due giri Sempre È Tanto Boh A regola Anche col Pitstop Per quanto Sia Stupido A regola Però Quando Uscirò Da lì Dovrei Comunque Rimanere Primo A regola Quindi Ondevità Problemati E io Vorrei Andarci Lì 74% Guardi Guardo La classica Gomma Sinistra Anteriore Là davanti No Via Ci vado Non la rischio Male male Arriverò Secondo Terzo Se mi devo Lì Via Rientriamo Andiamo Un po' Siamo Primi Cioè Non di Tanto Ma Siamo Primi Fatti L'avevo Detto Adesso Si può Stare Tranquilli Via Ora Appena Posso Rimetto Anche La grassa Tanto Un giro È passato Le manca Solamente Un'altra Nel senso Cioè Ce la facciamo Con la grassa Aspetta Vai Vai Eh bimbi Se veramente Alla fine Dovessimo Vincere Ho questo Dubbio Vì Che non Mi fa Stai Che non Mi fa Stai Quello Che ha Dito Primo Di Abu Dhabi Io Se non Sbaglio La regola Non ci Dovrebbe Almeno Quest'anno Essere Quei discorsi Doppi punti A regola Quindi In teoria Se il gioco È fatto a modino Se noi dovessimo Vincere Vesta Abbiamo vinto il mondiale Quindi Non mi riesce A essere Gazzatissimo Perché Ho Poi Di dire Una Cazzata Ecco Spero Di Sbagliarmi Eventualmente Vado a Fatta La figletta Di Merda Tanto Dio Uno Più Nel Meno Ormai Sambia Via Iniziamo L'ultimo Giro Lo Faccio Iniziamo A voi Dai Un bel Distacchino Comunque De Hamilton Nonostante Tutto Calcolando Siamo andati Due volte Boxe E invece Anche Le rosse Ah Pesso Un po' Venga Vabbè Nonostante Tutto Poteva andare Peggio E che Palle Veste Qui Una volta Su due Va La piglia Si Oh Non mi Riesce Quello Il vettine Lì Non mi Riescono Via Vai Qui ci Siamo Siamo Alla Fine Vai Guarda Ganza Tutte Le rosse Lì Avete Visto La regola Si è Vinto Guardiamo Un po' E andiamo Hai vinto Il camperato Piloti E andiamo Siamo Siamo Campioni Del Mondo Siamo Campioni Del Mondo Siamo Campioni Del Mondo Con la Manor Ce l'abbiamo Fatta Incredibile Impensabile Per come era andata la scorsa stagione E per come stavamo andando In determinate gare In determinati momenti di questa stagione Ma ce l'abbiamo fatta Siamo Campioni Del Mondo Con due gare rimanenti Oltretutto E andiamo Dai che è meritato Me lo son meritato Ho patito Sono me a volte Sono andato più veloce del dovuto Troppe penalità Insomma Nonostante tutto Dai me lo merito Me lo merito Via guardiamo Vestosa V Godiamocela insieme Grazie ragazzi Anche se A volte Volevo spaccarvi la chigna Per discorso con me Però grazie uguale Giusto festeggiare Ok Hamilton è arrivato Sion dalla fine Ridi Ridi Ciccio Vieni Salutiamo tutti Ciao Ciao E andiamo Vediamo se succede qualcosa Particolare o meno Non credo Però Guardiamo E poi Andiamo al weekend successivo No Non succede niente C'è il mio vero Cosa di cercare Sviluppo da montare Queste Efficienza carburante Perché non montarlo Tanto No se in più No se in meno E abbiamoci al prossimo weekend Bonus sponsor Vabbè Tanto ci faccio po' Vabbè Ecco Chris Che ci dice Che ha montato la miglioria Ehi una cosa per te No L'unica cosa che sono curiosa di vedere È come siamo messi Anche se sinceramente Non me ne frega niente Lo posso anche arrivare ultimo A livello di Diciamo prestazione A livello di classifica Del team Siamo 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 settimi Un'altra volta Ora sicuramente Se raggiungo la squadra di prima Non ci ho fatto caso Però Costruttori Vabbè Ho portato la mano Arti livelli Eh ragazzi Allora 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 Io pensavo no Siccome tanto a me Non me ne fea niente Di come andare nelle gare Per evitare di annoiarvi E Ci dirò Per farci che il video Sia meno lungo Io vorrei simulare il tutto Come si fa? Devo per forza andare qui Devo fare tutto Vabbè Intanto vado alla prova libera In realtà Tanto lo sapete La sarto Vado alle qualifiche Le sarto Cioè Se posso Le simulo E poi simulo la gara Lì so come si fa Perché a regola Se non erro Torna Vai a qualifiche Se non erro Nella gara Se premi start C'è scritto Simula la gara Però per quanto riguarda L'altra sessione Non so come si fa Quindi Momentamente faccio così Sì lo so che non è Nella nostra correttissima Da fare Però È che Le ho sono andate così Non mi interessa Di avere un Determinato vantaggio Un eventuale dato vantaggio Dalla seconda A me bastava arrivare a primo E anche troppo Sinceramente ho detto Va Io quando inizio anno Lo dissi Sinceramente Le l'ho detto E non ce la fa Aspetta Noi vediamo chi è arrivato E poi continuo il discorso Chi è? Sono in alto parte Hamilton Rosberg Chi è? Vette Comunque Dicevo E Tanto procedo Le qualifiche Ditto sta Vedete Dio si Poi non ce la faccio Ditto va Ma la gio Dicendo D'arrivare Tra le prime tre Che forse Sicuramente più fattibile Invece Incredibilmente Ce l'ho fatta Uno può Dì Non è mai così difficile Per me ragazzi Sotto certi punti di vista Lo era Dì Perché Oh Ok Che Ah Devo per forza Fare così No 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 Sbagliato No Che cazzo Sbagliato Lo mando avanti il tempo Dunque Dicevo Per me non è così Basta vedere Come è andata La scorsa stagione Ok Che magari la macchina A livello di migliorire Non era così Però Sono Alla fine Più o meno Ero lì Anche a livello di 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 Classifica No Di team Dal punto di vista De 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 prestazioni E Oppure ce l'ho fatta Meno male Non è andata bene Oh spero di non aver detto cazzate Perché mentre parlavo Cercavo anche di controllare Il gioco E come credo Io vi avrebbe fatto capire Non è che io Sia molto in grado Di 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 Ambo le cose Quindi Spero non mi avevi detto le cazzate Ok Il trucco l'avete capito Eventualmente Ecco ci va Procediamo alla gara Inizia gara E a regola C'è il chiedito simula No No Vabbè Mai bisogna partire Chissà come mai siamo ultimi No davvero O faccio un incidente Io la posso simulare Ma non l'ho lasciata la frizione No l'avevo lasciata la frizione Vabbè Dalla partenza Comunque Cioè simula Simula sessione Vediamo come Cosa sta facendo Perché esulta così Con uno scemo Io vorrei sapere No ragazzi Cazzo vuol dire Quanto siamo arrivati Sono arrivati vinti alla fine La macchina è arrivata Quindi va buono Sì Procediamo Al prossimo weekend L'ultimo Facciamo verlo E poi chiaramente Arrivano le conclusioni Sì ormai Faccio per la prima volta In questa serie Tre gare Tre Sì Tre gran premi In un video Tanto credo E soprattutto Spero che alla fine La durata Sia più o meno Quella di sempre O al massimo Sia leggermente superiore Calcolando che comunque Non gareggia Quindi C'è tutta l'ambaradana Delle qualifiche Delle gare E che chiacchiero tanto Al contrario di prima Mi sono chetato E sono arrivato direttamente Alla sessione di gara Che chiaramente Simulerò Guarda almeno Ripartiamo Guardiamo Aspetta Ma faccio un pezzettino Perché magari Non lo so Alla fine Mi arriva un po' più alto A livello di classifica Eee Boom Simulo A meno che non faccia La botta ora No Non Ecco la qui Simulo Andiamo un po' Sì Lui si urta Sì Pensa una volta Andiamo un po' Arrivata la pergare Incora una volta Non è padre Sono arrivato un'altra volta Quinto Nonostante la botta Iniziale è presa Bene Un che si conclude Il campionato Con la bellezza Di 47 punti Stacco Dalla seconda Che addirittura La finestra E' stata Raikkonen Non tanti Che poi è simulato Anche se sono arrivato Vinto Belle Bella roba Bene 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 Quindi ragazzi Questo è quanto La stagione Termina qui Allora Termine della stagione Gentile Simone Siamo felici Di comunicarti Che la tua prestazione Sta superiore Ma leggermente Alle nostre aspettative Che hai raggiunto La prima posizione Nel campionato piloti Tu e il tuo compagno Di squadra Di scuderia Beh Pascal Verlein Avete anche accumulato Abbastanza punti Da farci classificare Terzi Nella classifica Costruttori Non vediamo l'ora Di fare ulteriori progressi Nella prossima stagione Ma adesso Per il tempo Per rilassarti Te lo siamo guadagnato Un pochino Evento contratto Cari miei Si abbandona La mano E si va Si fa McLaren o Asse Fa la McLaren No Questo Non significa Che Farò un'altra Cioè Continuo la serie Solamente Che Sinceramente Io A livello di carriera Ci ho giocato Diciamo Solamente Dal punto di vista Serie Gameplay Non ci ho giocato Con magari Mi interesse Ovvero Che magari Non so Piano piano Di scalare No Eventuali Team Arrivare Che ne so I top team I top squadri Tipo Ferrari Mercedes Red Bull E niente Questo è quanto Vi diciamo Che la storia Di Frizzio va avanti Però chiaramente Friisce qui il tutto Quindi niente Clicco Prossima stagione E arrivo Alle conclusioni E ci arrivo Parlando così Con questa schermata qui Vediamo se ho fatto La cazzata Ho fatto la cazzata Perché comunque Poi di poi E' più forte L'asse Della McLaren Vabbè Chi se ne frega Niente Quindi Come vi ho detto prima Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Abbiamo Meritamente Secondo me Conquistato Il mondiale Dal punto di vista Di creamenti Di Cabberato pilota Di scuderia Credo che L'OSA Fosse Impossibile A meno che io Forse Dall'inizio Della serie Aurea Riuscivo a Accumulare Più punti Risorse La macchina Più forte Che Verlaine Arrivava In posizioni Più alte E magari Io vincevo Anche più gare Anche facevo Più punti Comunque Quindi Sono stato Di parola Mi porta a casa L'obiettivo Massimo Ovvero Quello lì Del primo posto E quindi Bene così Bene così Davvero E quindi Boh Che dire Spero che la serie Vi sia piaciuta Peccato Per quanto mi riguarda Che a livello di visualizzazioni Ha fatto veramente Veramente poco Va bene che io sia Il classico top Youtube Che fa 8 miliardi di visualizzazioni In un'ora Quando pubblica il video Anzi Se va bene Se riesco a fare In un'ora Ne faccio Se io ne ho 10 Però non me ne frega niente Io continuo Finché Ho voglia E finché ho l'opportunità A portare Serie Gameplay Let's play E roba del genere Niente Però questa Come avete abito Arriva alla conclusione Spero come vi ho detto Per chi l'ha seguita Che possa essere Risultata divertente Giosiasmante Quello che vi pare Comunque roba Positiva E Basta Ciao di altro Grazie comunque Che l'ha seguita E Basta Vi aspetto Nelle prossime serie Indipendentemente Dal fatto che Possano essere serie Riguardanti F1 Comunque giochi Diciamo In cui Devi gareggiare A livello di macchine Moto Di motori Insomma Sia nelle altre serie Che comunque Sono Completamente Totalmente Diverse Da questo genere Qua Via Grazie a tutti Ancora una volta Grazie per la visualizzazione Di sempre Anche di questo video Qua E Come sempre Vi ricordo Se volete Di mettere Vai a fare Queste tre cose Se volete Mi piace A questo video Qua Comunque Mi piace Ci può stare Abbiamo vinto Il mondiale Di condividerlo E poi Chiaramente Non è tanto Per questa serie Ma nel discorso Generale Se volete Iscrivetevi al canale Così potete Mere aggiornati Su tutti i video Che caricherò Sul canale Non devo stare qua Perché purtroppo Per ora finisce E Niente Detto questo Vi saluto E vi aspetto Come ho già detto prima Nei prossimi Video Indipendentemente Tra fatto Che se è gameplay O altri video Del cazzo Che faccio Via Grazie a tutti Ancora una volta E ci vediamo Ciao Ciao